Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale, il canale dello Stavo Nerd. Oggi, come avete visto dall'immagine di copertina, vi voglio andare anche a spiegare il mio malessere riguardo questo, non lo chiamo neanche aggiornamento del venerdì, ma proprio la presa di posizione che la club ha deciso di portare avanti con questa cosa, con questa situazione, con questa decisione di non dare dreamball. Il fatto di aver dato soltanto da bonus login 15 dreamball dilazionate a 5 per una volta, per tre volte, è veramente una presa in giro ragazzi, è veramente una presa in giro per noi utenti, per noi giocatori che abbiamo dato l'anima per tre anni e mezzo e speravamo, tramite le loro parole, che l'anniversario di questo giugno, del quarto anniversario potesse essere migliore, migliore rispetto all'anno scorso, perché loro ce l'avevano detto che avrebbero continuato così come l'anniversario di dicembre, visto che l'ha piaciuta a molti, così non è stato. Dopo due settimane abbondanti abbiamo, anzi, sì, due settimane abbondanti, abbiamo la bellezza di 300 dreamball regalate e 7 banner a disposizione da inizio anniversario. 7 banner, rimancheranno ancora 3. Spiegateci come facciamo a rimanere di tutta questa cosa qua e non abbiamo neanche la possibilità di scegliere, perché ogni giocatore è fitta benissimo, con qualsiasi informazione disponibile. Ennesimo banner pay, Santana, Santana giocabilissimo, Santana che è fortissimo, poi stasera ne parleremo in live tutti insieme e io vi invito comunque ragazzi, lo sto già facendo, e non è un instigare all'odio, è proprio una sorta di farci sentire veramente tutti quanti, tutti quanti. Io adesso sto facendo un video breve a lavoro, non potrei neanche farlo, ma ci devo farvi capire il mio punto di vista a riguardo. C'è gente che mi ha chiesto, Jenna, chissà cosa avresti detto se il video l'avessi fatto oggi, quello che l'ho portato poi ieri sul canale. Ragazzi, sono nero, sono nero, sono dispiaciuto, sono triste perché il gioco continua a piacermi e vedere che loro ci prendono per i fondelli sapendo il nostro punto di vista è veramente brutto, veramente brutto che degli sviluppatori di un gioco prendano per il culo i propri clienti. È come se io, datore di lavoro, se io dovessi promuovere il mio prodotto dal cliente e gli dico, ascolta, è così il prodotto, poi una volta venduto gli do totalmente il prodotto opposto. però intanto io soldi ce li ho fatti. Cioè, io leggo di gente che è arrivata l'esasperazione, è arrivata veramente l'esasperazione e così non si può andare avanti. Sto benissimo che mi sto incapolendo per un gioco per smartphone, però c'è una community, c'è delle persone che hanno chieduto in questo gioco per tre anni e mezzo, io ci sono dentro. Quindi, questo breve video per dirvi che stasera sono in live dalle nove in poi e andremo a parlare ancora una volta di questo aggiornamento da presa in giro, mettiamolo così, da presa in giro, non voglio usare altri termini perché non voglio essere volgare, io sono una persona pulita e non mi va di essere cattivo nei confronti delle persone, però a volte ti ci portano. Io comunque vi invito a seguirmi stasera e vi ricordo il mio gruppo Telegram, la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram dove sto cominciando anche a pensare di portare qualche diretta in più, visto che al momento non avendo raggiunto un tot di iscrizioni non posso permettermi di portare dei post di preavviso, quindi nel caso per rimanere anche sempre tutti uniti vi lascio tutto in descrizione e niente ragazzi, io vi auguro una buona giornata, tenete duro e ci vediamo stasera. Buon game a tutti, ciao ciao!